Ciao ragazzi, mentre questo video è stato l'Alex, io siamo Toreso di Nostanza Allora ragazzi, io siamo Toreso di Nostanza e oggi vedremo questo video che si chiama Daniele De Martino e ce saluta a me In tutto questo video non offenderò assolutamente nessuno Non prendo in giro assolutamente nessuno, nessun modo per scherzare Va bene che subito, vai! Va bene che subito iniziare, vai! E vabbè, abbraccialo più tardi Eh, non si può fermare Va bene ragazzi, se poi questo video ci sono ragazzi, come noi in questo video non ho fatto assolutamente nessuno Non prendo in giro assolutamente nessuno, non prendo per scherzare Va bene ragazzi, posso ancora vedere qui il video Con questo video ci sono un prossimo video Ragazzi su Instagram e ascolto nella descrizione Ciao ragazzi Andiamo avanti Va bene ragazzi, direi che posso ancora vedere qui il video Con questo video ci sono un'altra descrizione Nel prossimo video Ragazzi su Instagram e ascolto nella descrizione